Buongiorno, sono la Lola, sono qui per presentarvi il mio locale, appunto la locanda della Lola. Se avrete il piacere e la voglia di venirmi a trovare sarò io a ricevervi e a proporvi la nostra cucina. Buongiorno, sono la bella via che ti costa una bugia, non è amore ma che va, se il cuore mio con te si è riscaldato già. La strega o papola non so, ma il tuo bacio sembra vero, penso ancora a Matra, ma il cuore mio con te si è riscaldato già. Ovviamente è basata molto sul pesce, perché io sono ligure e mi avvalgo della collaborazione della Marte e del Beppe, due cuochi eccellenti della costiera amalfitana. Potete gustare la nostra catalana, la nostra zuppa amalfitana e tante altre specialità, oltre a un buon vino e buona compagnia. E' una bugia, non è amore ma che va, il cuore mio con te si è riscaldato già. Lola Uno sguardo vale più di una parola, c'è una lacrima che scende sul tuo viso. Se volete venirci a trovare, il nostro locale è a Buario Alta, via Alessandro Manzoni, poco distante dalle ferme. Non è stata una bugia, non è amore ma che va, il cuore mio con te si è riscaldato già.